Il Comune di Perugia ha adottato l'ordinanza per combattere il fenomeno della prostituzione su strada. Questa ordinanza, che sarà in vigore dal 29 maggio al 31 ottobre, riguarda diverse aree della città, tra cui Via Settevalli, Via Nuvolari, Via Conti, Viale del Percorso Verde, Via Piccolpasso, Via Trasimeno Ovest, Via Mario Angeloni con relative aree di parcheggio, Via Canali, Via Campo di Marte, Via Del Macello, Via Penna, Via Sacconi. Via della Scuola, strada Colle Umberto Pontenese, la statale 728 del Pantano, strada San Giovanni del Prugneto. L'ordinanza vieta di intrattenersi con persone che si dedicano alla prostituzione e che mostrano uno dei seguenti comportamenti. Permanere a lungo nelle suddette vie con l'intento di prostituirsi. Assumere atteggiamenti che indicano l'intenzione di offrire prestazioni sessuali. Indossare abiti che manifestano l'intenzione di adescare per la prostituzione o che offendono il pubblico pudore. La violazione dell'ordinanza si concretizza anche quando si fa salire a bordo di un veicolo una o più persone, come indicate nell'ordinanza, o con la semplice fermata al fine di contrattare la prestazione sessuale con la persona dedita alla prostituzione. Oltre alle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione dell'ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro.